Depositate le motivazioni per le quali il Tribunale ha riconosciuto la pericolosità sociale del già sottosegretario agli interni, Antonio Dalì, imponendogli l'obbligo di dimora per tre anni. Giuseppe Graviano da Brancaccio, Palermo, boss stragista ergastolano, nel marzo del 2016 è intercettato in carcere. Lui conversa con un compagno di Cella ed entrambi sono detenuti alla 41 bis. E le parole di Graviano sono, poi ci sono cose che io non riesco a capire. C'è quello trapanese, Dalia, quello con gli occhi graziosi, questo con quello che cercano, guardami un beh, sono come la... E Giuseppe Graviano durante, sono come la... ha intrecciato le ditta delle mani. Ebbene, secondo i magistrati, quello che cercano è il latitante Matteo Messina Denaro e il presunto stretto contatto, testimoniato dalle dita incrociate tra l'ex senatore Dalì e Messina Denaro e a fondamento della pericolosità sociale del politico trapanese, al quale, su proposta della procura antimafia di Palermo, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani ha appena imposto l'obbligo di dimora a Trapani per tre anni. Adesso sono state depositate le motivazioni e i dettagli del provvedimento. Antonio Dalì per tre anni non travalicherà i confini della città di Trapani, rientra a casa entro le ore 21 e non esce prima delle ore 7 del mattino. Antonio Dalì, in carica al Senato per 24 anni, discendente di un'antica famiglia nobiliare proprietaria della Banca Sicula e delle Saline di Trapani, fedele riferimento di Silvio Berlusconi, è stato anche sottosegretario agli interni, dalla 2001 alla 2006. Nei terreni della sua famiglia, in contrada Zangara a Castelvetrano, ha lavorato come campiere Don Ciccio Messina Denaro, padre dell'attitante Matteo. E tra le 321 pagine di motivazioni dell'obbligo di soggiorno, i giudici della sezione misure di prevenzione, tra l'altro, scrivono Dalì ha mostrato di essere a disposizione dell'associazione mafiosa Cosa Nostra e di agire nell'interesse dei capi storici, come il latitante Matteo Messina Denaro e Salvatore Riina. In quasi 30 anni è evidente come Dalì abbia utilizzato, alla fine di soddisfare gli interessi dell'essodalizio, la funzione di senatore. Dopo il 1994, la carica politica di Dalì e il potere ad essa connesso, ha costituito il substrato delle condotte di Dalì e questo speciale livello di coinvolgimento ha fatto sì che Dalì sia stato riconosciuto come un soggetto a disposizione di Cosa Nostra e in particolare vicino a Messina Denaro. I giudici ritengono inoltre provato il sostegno elettorale ricevuto da Antonio Dalì e anche l'interesse per il trasferimento dell'allora prefetto Fulvio Sodano e del capo della squadra mobile di Trapani, Giuseppe Linares. E il requisito necessario dell'attualità della pericolosità sociale del sorvegliato speciale sarebbe fondato sul contenuto dell'intercettazione in carcere di Giuseppe Graviano. La magistratura palermitana lavora sulla presunta pericolosità sociale di Antonio Dalì dal maggio del 2017, in le mese delle elezioni amministrative a Trapani, quando l'ex senatore è stato candidato sindaco. Lui, Antonio Dalì, è imputato dal 2011 per concorso esterno all'associazione mafiosa. In primo grado, in tribunale, giudicato in abbreviato, è stato assolto e per le condotte precedenti al 1994 è intervenuta la prescrizione. In appello è stato assolto, poi la Cassazione ha annullato l'assoluzione e ha rinviato il processo ad un'altra sezione di corte d'appello. Il secondo processo d'appello a carico di Antonio Dalì è attualmente in corso a Palermo e la Procura Generale, tramite l'EPG, Nico Gozzo, ha ottenuto il rinnovo parziale del dibattimento e quindi la possibilità, tra le altre, di ascoltare nuovi testimoni. E' chiaro che via via quando facevano delle cose un po' più... Grazie. Grazie.